Ciao, sono Paolo Ruffini, Gio Bastiani, Cirito Lamantia, Chiara Maci, Alessia Zecchini Siamo la squadra della prevenzione oncologica Per combattere il cancro, gioca d'anticipo Gioca d'anticipo Gioca di anticipo Gioca d'anticipo Gioca d'anticipo La salute comincia al tavolo Mangia sano scegliendo gli alimenti giusti Usa sempre l'olio extravergine d'oliva Mantieniti in forma, corri, fai le scale, nuota e immergiti in apnea Stai lontano dal fumo e non ti dimenticare i controlli periodici per la diagnosi precoce Segui un corretto stile di vita Ed entra anche tu Nella squadra della prevenzione Perché prevenire è bene